E' rientrato per ora il pericolo di chiusura del reparto di cardiologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla, uno spedale al centro di tante problematiche, soprattutto per la carenza di medici. L'allarme era nato dopo una lettera interna del primario Silvio Saponara ai vertici dell'aslo di Salerno, nella quale rimarcava che non era più possibile effettuare la turnazione per ore massime raggiunte dai medici del reparto. Questo soprattutto in seguito alla comunicazione che si è letto sulla missiva di Saponara, che gli stessi medici gli avevano dato. I tre professionisti da mesi stanno coprendo turni massacranti di 12 ore con difficoltà nel prendere ferie e anche solo semplicemente respirare un po' con qualche giorno libero. L'intervento del dirigente dell'aslo di Salerno Chiumiento e soprattutto grazie all'abnegazione dei tre medici del reparto di cardiologia è stato possibile far continuare a battere il cuore del reparto stesso, almeno fino a fine giugno, con interventi urgenti che arriveranno nelle prossime giornate per poter far sì che questo reparto possa continuare il suo importante lavoro sul territorio valdenese e non solo.